L'indiscrezione circolava in rete già da qualche giorno ma ora è ufficiale. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, composto dal Presidente Vincenzo Niro, dai Vicepresidenti Cristiano Di Pietro e Filippo Monaco, dai segretari Domenico Dinunzi e Giuseppe Sabusco, ha approvato all'unanimità la delibera numero 115 dell'11 ottobre, avente per oggetto iniziative a tutela dell'immagine dell'istituzione regionale. Il testo del documento è letteralmente il seguente. L'ufficio di presidenza, premesso che alcuni quotidiani regionali hanno espresso nei confronti dei rappresentanti delle istituzioni regionali giudizi che forniscono alla collettività amministrata una falsa rappresentazione della realtà storica, tale disinformazione continua oggi anche sulla stampa online, tali fatti sono mirati a screditare il ruolo e le iniziative dei singoli consiglieri, di recente alcuni cittadini dichiarandosi indignati per alcune iniziative legislative hanno manifestato davanti ai cancelli del Consiglio regionale del Molise. È in corso quindi una persistente campagna denigratori nei confronti dei singoli consiglieri e della istituzione regionale. Appare opportuno tutelare le prerogative proprie dei consiglieri regionali e della regione Molise, tanto premesso ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto regionale, delibera di demandare al Presidente della Giunta regionale ogni iniziativa ritenuta utile al fine di tutelare l'immagine e il decolo dell'istituzione regionale. Il contenuto della delibera dunque non specifica quali siano stati i fatti e le circostanze che avrebbero screditato il ruolo e le iniziative dei consiglieri regionali, ma l'ipotesi più probabile potrebbe essere riferita all'informazione data e dovuta ai cittadini sull'aumento degli stipendi dei consiglieri erogato in un drammatico contesto di crescente povertà, sulla illegittima applicazione del decreto Monti per quanto riguarda il finanziamento ai gruppi conciliari e sulla mancata abrogazione dell'indenità per i portaborse, ancora in vigore, che si è andata a sommare con i nuovi stipendi, rendendoli di fatto incompatibili con i limiti massimi imposti dal decreto 174. Rispetto a queste decisioni assunte dal Consiglio regionale, una parte degli organi di informazione, pochi per la verità, e tanti molisani adeguatamente e correttamente informati hanno ritenuto legittimamente di dover vigilare sulla corretta applicazione della normativa. Naturalmente tutti hanno il diritto di tutelare la propria reputazione. Maleditto bulgaro di stampo neofascista emanato dall'ufficio di Presidenza, benché non coinvolga direttamente Telemolise, lo respingiamo ugualmente ai mittenti, poiché appare un vergognoso tentativo di minacciare la libertà di stampa e il diritto dei cittadini a protestare, entrambi tra l'altro garantiti dalla Costituzione. Demandare poi al Presidente della Giunta la tutela dell'immagine della massima istituzione regionale non solo mette a repentaglio l'autonomia del Consiglio, ma fa pensare a oscuri intrecci tra poteri forti, magari al di fuori della politica, come ha ipotizzato il senatore Ulisse Di Giacomo, con i quali poter mettere nel mirino e imbavagliare gli avversari politici e la libera stampa solo perché fanno il loro dovere. In tale contesto diventa sempre più necessario tutelare invece il decoro e l'immagine dei molisani calpestati con iniziative comiche, improvvisate e pericolose per la democrazia.